Carrel, premio Nobel per la biologia, ha lasciato, è morto prima di compiere l'opera, ha lasciato molti frammenti che la moglie pubblicò in un libro dal titolo Riflessioni sulla condotta della vita. In questo libro c'è questa osservazione. Nella snervante tenerezza della vita moderna, la massa delle regole tradizionali che davano consistenza alla vita si è disgregata come si disgrega di primavera la superficie gelata di un fiume. Grazie ai progressi della tecnologia, la maggior parte delle contraddizioni che ci imponeva il mondo cosmico sono scomparse, ma nello stesso tempo è scomparso anche lo sforzo creatore della personalità che quelle contraddizioni sollecitavano. La divisione ora regna dovunque. Ecco il brano per cui soprattutto ho scelto di leggere. Poca osservazione e molto ragionamento conducono all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Nella organizzazione della nostra vita collettiva abbiamo preferito i capricci intellettuali ai dati della scienza, intesa la scienza come l'osservazione del reale. E il trionfo delle ideologie consacra la disfatta della civiltà dell'umano. Ecco, questo è ciò che io intendo per realismo. Non privilegiare uno schema che è già in testa sulla osservazione intera, appassionata, insistente del fatto dell'avvenimento reale. Così dobbiamo fare anche con questo fatto.